Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui in questo nuovo video, sono Eliana e oggi siamo qui per il video della base perchè ho fatto questo trucco e mi sono struccata la base in modo da farvi vedere cosa faccio per la mia base tante volte tutto base poi vabbè mi struccherò del tutto e vi farò vedere come mi strucco e vi farò vedere anche tutta la skin care come prima cosa prendo questo correttore, questo fondotinta che si chiama Stay All Day di Essence e lo metto sulla mano poi c'è io anche con la Beauty Blender e con la Beauty Blender cioè io non ho una Beauty Blender però è tipo, cioè la funzione è la stessa e insomma questo e insomma vado a tamponare probabilmente arriverà il tutorial di questo trucco tra qualche giorno perchè ce l'avevo già registrato oggi ma poi non ho ho fatto una bella finita il video verrà reale di salva probabilmente poi sempre di Essence prendo questo Pure Nude Computer e lo vanno a applicare sotto lo che hai sì, sotto lo che hai, sotto lo che hai e lo che hai, sotto lo che hai, sotto lo che hai oddio non mi stavo calcolando per niente e vabbè lo applicato sotto l'occhiaio poi prendo la terra di Debbie questa è la Maxi Sun Brozing Powder e con questo pennello angolato per il contouring faccio questo vabbè lo vado a sfumare con un'altra pennella è molto per mettere in bella terra basta che sia un casino perché sennò è un po' un casino sì, viva, sfumato vado un po' a rendere ho modello quindi io, vado a tutto poi con questo blush che si chiama Matte Touch Blush vado a fare così ed è di Essence vado a fare così e il tamponale poi sempre con la terra faccio così e poi sì, non mi prendete per pazza anche con un ombretto e poi con la terra faccio così e io spero che questo video della base vi sia piaciuto ho realizzato in questo momento che farò un altro video a parte sulla skin care rodina un bacio e ciao 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 ciao